Direttamente dalla Cameretta Magica, benvenuti ad un nuovissimo video. Oggi, 22 di maggio, recensiremo e assaggeremo le Pringles Perfect Flavor al gusto Hemmental. L'ho presa al Conad del Centro Commerciale della Noce in offerta ad 1,59€. Comunque volevo salutare Giorgio Dal Zotto, Boa NFR, Annuario Aston, Asa Mario B, Mechide Mondo, PIL TF2 e Deborah, N3 Burr, Gabriele Ominetti e Fabio Mazzi. Ok, adesso apriamo. Siamo alla degustazione. Ci vengo a dire che a me l'è in mente al come fromaggio, mi piace molto, quindi chissà se saranno buone anche queste. Siamo a dire che a me l'è, Niente male. Motorona 10 gli darei un... Guarda, sono sincero, un 6,5, non di più. Non sono tutto sto splendore, però in fin dei conti meglio di niente. E che dire, niente, ci vediamo alla prossima.